Due le automobili in fiamme a Caltanissetta, uno intorno alle 4 e mezza in via Colonnello Ebber. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e i vigili del fuoco che si stanno occupando, così come la polizia scientifica, degli accertamenti per stabilire la dinamica. L'altro incendio si è verificato intorno alle 5 invece in via Panzica. Anche in questo caso è immediato l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia e sono in corso gli accertamenti anche da parte della scientifica. Entrambe le auto risultano intestate a due donne nissene, non ci sono feriti o danni ad altre cose.